Simpatico, spigliato e solare, sempre gentile con tutti, un galantuomo d'altri tempi con le donne, alle quali non perdeva occasione di dedicare loro le sue poesie. Paternò perde un altro pezzo della sua storia all'età di 97 anni, se ne va il maresciallo della Marina Militaria Italiana Vincenzo Piazza. Sempre presente agli eventi pubblici in rappresentanza del corpo militare di cui ha fatto parte il maresciallo Piazza, è stato un volto noto in città. Più volte ha trovato spazio anche all'interno della nostra redazione con i suoi ricordi. L'ultima intervista l'abbiamo realizzata poco più di un anno fa in occasione della manifestazione in ricordo dei bombardamenti del luglio del 1943 su Paternò. Ecco, ma lei come ricorda Paternò? Che cosa ricorda di quella distruzione? Via Montecenere, com'era? C'era un sacco di gente per la strada, una massa di gente che saliva. per le strade, per vivere, andavano tutti quanti in campagna, involverata, con delle ferite enormi, una moltitudine di gente che saliva per le campagne. Voglio dire di vivere in pace, cercare di dialogare con la gente in modo che vogliamoci bene, insomma, in poche parole. Va bene. Cordoglio per la morte della Maresciallo Piazza l'hanno espresso il sindaco della città, Nino Naso, e la Marina Militare. I funerali del Maresciallo Piazza verranno celebrati domani, martedì, 22 ottobre, alle 15.30, nella chiesa di Santa Barbara a Paternò.